Negazione negazione bentornati a tutti. Oggi è sabato, 23 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Luce e fortuna contro l'inverno Saturnino. Che sventagliata di trigoni vi arriva oggi, dalla luna nel segno amico del toro abbracciata a Giove, sempre il numero uno in fatto di fortuna. Poi a partire dalle 04.27 di stamani dal sole solstiziale entrato in Capricorno che incontra Mercurio. Giusto il tempo di un abbraccio, visto che il piccolino già domani tornerà sui propri passi in sagittario. E allora godetevi appieno questi tempi positivi, ottimisti e luminosi quanto basta da obnubilare, almeno per qualche ora, il ghigno cattivello di Saturno che dal segno opposto vi tiene d'occhio, mostrandovi la bacchetta. Con cui punisce ogni vostro piccolo errore. Se un partner c'è, magari un po' invecchiato e insoddisfatto, andateli incontro a braccia aperte. Dolce ricucire l'intesa durante le feste, ma se avete rotto e avete dei figli vi rallegrate all'idea che quest'anno saranno con voi. Li porterete a sciare, in viaggio, insomma farete i numeri da circo per farli divertire e renderli felici. Felicissimi anche voi della loro preziosa compagnia. Dunque da stasera liberi tutti, anche se quel sottile senso di solitudine, anche se avete famiglie e siete circondati di gente, non se ne va. Solo in quanto umani alle prese con gli enormi problemi del pianeta e con la durezza e l'ignoranza di chi piglia tutte le scuse possibili, dall'economia alla religione, per scagliarsi contro qualcun altro. Uomini lupi insomma, meglio non far torto al selvatico quadrupede che dell'uomo ha giustamente una gran paura. Ma adesso basta con i pensieri cupi, vi aspetta un viaggio, un cinema la pizzata degli aguri tra amici. E allora via quel grigio dall'abito e dal cuore, indossate un po' di giallo solstizio, e godetevi qualcosa dello stesso colore anche nel piatto, magari un risotto alla milanese o una tortilla alla spagnola, purché giallo sia. Un sogno d'amore si realizza e una coppia va in porto, il destino compie il suo percorso e aiuta i partner a concretizzare un rapporto o a coronare un sogno d'amore. Spesso annuncia una gioia in merito a un figlio in arrivo. I single beneficeranno di un periodo positivo incontrando persone generose ed altruiste che potrebbero fare la loro felicità. Non abbiate particolare fretta nel raggiungere un obiettivo particolare, mettete in conto la pazienza e cercate di osservare e studiare bene prima di agire. Impulsività e troppa fretta potrebbero danneggiarvi. Fiducia e rispetto sono alla base di un rapporto di coppia. Non potete pretendere quello che non siete disposti voi stessi a dare. Oggi è uno di quei giorni in cui vi sentite estrani a molte questioni, avvertite quasi un senso di distacco da tutto e da tutti. Cercate di restare un po' da soli e dedicatevi a qualcosa che vi piace davvero. Qualche pena in amore per delle incomprensioni che non avrebbero ragione di esistere. I nati di lunedì tra le 8 e le 19 potrebbero affrontare dei colloqui di lavoro che avranno i loro frutti. Per i nati di sabato tra le 11 e le 16 invece potrebbero vedersi scivolare sotto gli occhi le occasioni giuste. In ogni discussione cercate sempre di ascoltare gli altri ma portate acqua al vostro mulino sostenendo con il ragionamento articolato e ponderato le vostre ragioni. Ricordate che nessuno vi regala niente. Particolarmente buoni i rapporti con fratelli, cugini e zii. Avrai tanto lavoro da sbrigare. Sarai bravo e gli altri ti stimeranno. Fai le cose insieme ad altre persone. Cerca di evitare la solitudine. Casa e famiglia cattureranno la tua attenzione. Una visita in attesa. Oggi vi troverete ad affrontare con alcune persone care o conoscenti argomenti decisamente delicati e che potrebbero inquietarvi. Mantenete fermi i vostri principi e non cadete di fornte allusinghe e adulazioni. Si registra oggi la congiunzione favorevolissima tra Mercurio e Sole nel segno del Capricorno che evidenzia una fase di attivismo, volontà di badare al sodo, che tanto vi piace, tanto si confà al vostro temperamento vergine. Questo in particolare se siete nati in agosto. Alle ore 22 e 49 il Sole entra nel Capricorno e in cielo si crea il magico solstizio d'inverno. La notte è la più lunga che ci sia, mentre il giorno è quello più corto. Giornata emblematica questo solstizio per voi, il Sole passa attraverso la gola dell'anno, un evento che gli antichi celebravano mangiando l'anguilla, sacra la Dea Angitia, protettrici della gola. Dovreste mangiarne anche voi di anguille per mandar giù tutti i problemi e i contrattempi che Saturno all'opposizione vi propone non solo oggi, ma di giorno in giorno, la freddezza del partner, il bisticcio col socio che prende le distanze, ostacoli e tranelle disseminati lungo il cammino. Ad addolcirvi la pillola la luna abbracciata giove in toro, segno di terra come il vostro, così come di terra e anche il Capricorno che ospita Mercurio e da quest'oggi anche il Sole. Amore ed Eros. Famiglia serena e di questi tempi, già un ottimo motivo per essere felici, anche se il mondo è diventato cattivo in casa vostra, con la porta blindata e l'allarme inserito vi sentite protetti, pur sapendo che le vere protezioni sono altre, il carattere forte, impermeabile a provocazioni e minacce, un corso di karate, livello cintura nera che fa sempre comodo, ma soprattutto fiducia nel karma e nelle protezioni sottili, garantite da essere invisibili, ma non per questo meno efficiente, anzi. Il pensiero positivo sarà il vostro scudo. Rapporti sereni anche con mammina e la suocera, segno che o voi siete diventati santi, oppure siete solo molto, molto fortunati. Lavoro e denaro. Ostacoli e contrattempi in ufficio, qualcuno vorrebbe rallentarvi il passo, ma con voi sarà dura. E così avrete ottimi motivi per sentirvi felici, ultimo giorno di lavoro e dunque di grane, da stasera si festeggia il passaggio del sole con un aperitivo o una pizzata. Benessere. Rispetto ad altri momenti, quando meno berati da lavoro, uscivate di più e vi prendevate almeno il weekend per ciaspolare o pattinare ora vi sentite atonici, con un viso pallido da vampiro. Super lavoro, ecco come può conciare. Ma ormai per quest'anno è fatta e fino all'anno prossimo in azienda chi vi vedrà più? Benvenuti nel paradiso del Bengodi dove si mangia adagiati su soffici divani, come tricline dell'antica Roma e poi si dorme sprofondati in materassi di piume. Benetette le vacanze e chi le ha inventate. Per lei, che ti petti i vostri figli, sempre in pista a correre e a giocare, impossibile tenerli buoni, ma non sperate che lui incarni il ruolo del castigamatti. È quello, tra voi due, che li vizia di più. Per lui, come i marinai, un'amica qua e un'altra là, un'amica qui e un'altra lì. Insomma vi sentite un sole. Peccato che sotto sotto soli lo siate davvero e col mal di schiena per giunta. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.